Le ragazze con le labbra a canotto, povere papere, mute, sconsolate, nonostante le cosce lunghe, le risate che simulano imbarazzo, le lignotte, su tutti i quotidiani spuntanate che hanno preso i soldi, non le botte che prenderebbero in strada da battone, eppure vuole quello, le stigate sono tutte le altre, le brave ragazze, quelle che studiano, lavorano, ma a che serve se dopo devono strisciare per contratto? Basta che con lo moscio sia soddisfatto?